L'altra sera è nata in onda una nuova puntata di All Together Now, il game show di canale 5 dove la musica è l'assoluta protagonista. Si è trattata della semifinale del programma condotto da Michelle Unziker e J-Ax. Per quest'ultimo ieri una bellissima sorpresa a proprio inizio puntata. E per Michelle? Ebbene, dando un'occhiata alle stories della conduttrice postate durante la messa in onda della puntata abbiamo scoperto che Michelle ha visto la trasmissione in famiglia. La puntata chiaramente è stata registrata. Mamma in è che il fratello Harold e il suo amore Tommaso Trussardi non mancava proprio nessuno, ma la Unziker non sembra molto soddisfatta della scelta di seguire All Together Now con loro. Il motivo? Tutti hanno avuto qualcosa da ridire sul suo look. Che errore, scrive Michelle Unziker nelle stories di Instagram. Mi hanno massacrato, è lo sfogo della conduttrice. La mamma non ha apprezzato molto l'abito, per il fratello Harold invece da rivedere era l'acconciatura da signorina Rottenmayer. La ciliegina sulla torta è stato il commento di Tommaso Trussardi. A me non va bene niente. Insomma, un siparietto davvero divertente che Michelle ha condiviso con i suoi followers, con il suo solito sorriso e la sua ironia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.